Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer, bentornati su Mortal Kombat 11 Ed oggi non sono con Francesca, ma sono col carissimo Tuberanza Benvenuti ragazzuoli, oggi sfideremo a suon di colpi di cazzotti di zambate Come veramente vorrei fare il nostro... Come vorrei fare Va bene, va bene, ci sto, ci sto, vai No, sto scherzando, ti voglio bene, amico mio No, questa è una sfida, eh, ragazzi Allora, fammi di una cosa importantissima Lasciate un like adesso, se volete tante nuove sfide Fatelo ora che poi ve ne dimenticate, eh, mi raccomando Assolutamente E direi di scegliere il personaggio Io prendo il mio Baraka, ragazzi, Baraka che è uno dei miei personaggi preferiti Perché comunque, oh, bro, sono sincero A me questo gioco fa letteralmente impazzire, a me piace Allora, diciamo che siamo dei nabetti tutti e due, ok? Cioè, non dobbiamo dimostrare di essere fenomeni a nessuno Hai fatto bene a dirlo perché me ne stavo dimenticando Ragazzi, giochiamo solo per divertirci Non ci siamo allenati Ma cercheremo comunque di fare qualche Qualche mossa un attimino più particolare Ok Proveremo a fare le fatality Questo sì, possiamo dirlo Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo Si va Adesso ho messo la mia bandiera Sì, vabbè A fare cosa? Cioè, il tuo territorio Quello Così Aiaiaiaia Bam Eh dai Ma perché mi devi sempre Olè E mo ti faccio sempre da lontano, bro Eh, no, bro, non fareste cose Eccolo qua Bam Il potere Aiaiaia In quanto ti spacco quattro costo le tispa In realtà forse sono Sono spaccata qualcuno in più Eh sì, sembra di sì No, ma ragazzi, ma fa sempre la stessa mossa No, ho fatto il blu sprecato No, 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 ragazzi Bam No, no, devo insistere No Ho vinto già Com'è possibile? Eh bro, sei troppo forte Che ti posso dire? No, a parte gli scherzi ragazzi Sono io che mi devo un attimino allenare un po' Eh, Sussi Ma che è sta roba che metti a terra? Magari so Ma io la metto Bam Oh Non ti permettere Vai, 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 vai No Mannaggia Ma proprio in quell'istante Dovevi abbassare Oh, ma che fai? Mi tiri il mio Il mio consanguineo? E questo si merita evidentemente, no? Oh, ma basta No, vabbè, ragazzi Ma questo non attacca Non mi fa le mosse Non capisco Bene così E finalmente Mannaggia Vai così Ottimo Fatal blow Mannaggia la miseria Ma no No, vabbè, bro Sono finito E ora? L'hai fatta Mamma mia Fatality Ma tu sei pazzo Ma se mania faccia No, vabbè No, vabbè, bro Ma non ci credo nemmeno io Ma che sta a fare, mo? Ma te mani No Che cosa ha fatto, ragazzi? No, no, aspetta, bro Sono sincero Ho giocato malissimo Cioè, rispetto a come so utilizzare io Baraka Ho giocato malissimo Vabbè, diciamo che noi Non ci siamo allenati per niente Quindi Dobbiamo assolutamente migliorare Cambiamo PG? Eh sì Direi di cambiare personaggio Io vado con lui Vediamo che succede Aspetta, dov'è quell'altro Che mi piaceva parecchio? Quello con il cappello Ah, eccolo Sì, sì, sì Aia Aia Sì, sì, questo Va bene Va bene, va bene Direi di andare qua Grotta del Drago Wuxi Poi i caricamenti Sono veloci, eh Pensavo Eh sì Ci volesse un po' di più Va bene Hai la PS4 Pro? No, no Assolutamente no Quindi Perciò Ma guarda questo com'è Balla Boom Ops Ma Mamma Addirittura E vabbè ragazzi Peppe il paziatore Che cosa fa Oh ma questo è perfect Ma No, eh Oh ma questo è perfect No Non ci provare Bam No, guarda Se ti faccio il perfect qua Era la fine Mi sono barato Bravo Bravissimo Aspetta, però io vorrei fare Una cosa Se riesco, eh Sto usando tanto Mi son messo la fatality a schermo Eh, ho capito Eh, no, ma infatti Io ti stavo facendo fare Non mi stavo avvicinando Ah, va bene, va bene Grazie Dai, un colpo me lo becco Un colpo me lo devo pigliare È ok È andata Oh, basta però A posto così No Che stavo a fa? Ouch Questo ha fatto male Bro, mi hai colpito le palle Maledizione Eh, sono reso conto Più o meno Il concetto era quello lì Oh Ma come me la sono scansata Perché mi hai colpito da vuoto? Mamma mia Bro, peggio di Mario Kart Praticamente Oh Sono sospeso in aria Perché? Eh sì Infatti volevo capire Per quanto tempo durava sta cosa Secondo me Salti un po' troppo Quindi questo ti mette In una condizione A volte di Eh sì Ma non è Non è il fatto di saltare Cioè Il discorso è che Adia E che sto provando a fare mosse Perché io sto PG Cioè mi piace Ma non lo so utilizzare Vabbè Noi ti dico Dovremmo imparare un attimino Anche meglio a fare le combo Però ragazzi Noi oggi ci vogliamo solo divertire Spegniamo il cervello Anche perché Mortal Kombat Permette Ogni tipo di approccio Sia per scarsi Sia per esperti Oh attenzione Tocca a me No non la puoi fare E' andata E' andata Vai così Ma questa è una kamehameha bro Eh vabbè Un boia Mamma mia bro E' andata Ma che stiamo a fa Sbam Eh vabbè Sì E ciao Ma che è sta roba Fortissimo Io Io non capisco Perché le mosse Non mi escono bro Cioè secondo me Devo utilizzare Dove che usi l'analogico Io si Uso l'analogico Anche se per un gioco Di questo tipo Deve assolutamente Essere utilizzata La croce direzionale Perché c'è Pre picchia duro Però eh sì Assolutamente sì Ma io utilizzo La croce direzionale Però non Boh Beh non è facilissimo Assolutamente No Allora voglio qualcun altro Vediamo Io voglio utilizzare Scorpio Scusa Azz E allora Io direi di andare Con Liu Kang Eh ma qua sarà un po' dura Secondo me Perché qua ci giochiamo La bella Credo La giochiamo qui Oddio no Forse ci abbiamo tempo Per farne qualcuna Qualche altra Perché no a sto punto E allora perché no Vai vediamo E subito Che entrambi che voliamo Sto attento Mannaggia No Ma che Una Basta Eccolo qua Eccolo qua Caccia un po' di fuoco È la miseria Ma basta Cazzo Era bellissimo È stata molto comica La scena Devo essere sincero Però come vedi Mi sono un attimino Risvegliato Perché Eh sì Fino ad ora Avevo fatto un po' di errori vari Tuttora li sto facendo È ovvio Però adesso Chi lo sa No Questo non ci voleva Aia Mannaggia la miseria E vai Canna da pesca E vabbè Ma basta Oh ma qua ho subito Un botto di danni È fatto proprio male Mannaggia la miseria Il fatal blow Che non mi va a segno No bro Qua come l'hai fatto Non ci credo Non lo accetto proprio Non lo so manco io Che cazzo fa Non lo accetto proprio Dai Dai Ottimo Aia Dai Parati E dai Ancora così E farla un'altra mossa Ottimo Vai No Sai che ti dico bro Dimmi Facciamo proprio Facciamo proprio penna Tutte e due Ma Puoi dirlo forte bro Mamma mia Ma va benissimo così Tanto abbiamo già chiarito La nostra posizione qua Quindi Meglio Che lo sanno Eh questa l'avevo vista L'ho puntata E quindi ho detto Devo utilizzarla Ma non si va Oh ragazzi Una a uno Guarda il fuoco Guardalo Bello Allora Round finale Eeeh Vabbè Ragazzi Ma che si scherza Ma che si scherza Ancora Mamma mia No Volevo a chiaparti in volo Ah bro Manca una combo Oh 2 bro Scusa Te lo pago io il dentista Promesso Ah vabbè Guarda Come si atteggia Però effettivamente è vero bro Manca una combo Seria Siamo riusciti a fare Manca una Siamo i peggiori Ma che Ma che Oh Io ho preso fuoco Oddio Oddio Aiutami Chiamate i pompieri Oh ma basta No 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 Bro Sembra veramente due scemi Che E' vero No Sì 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 certo Domani No Beccate questa Beccate Non ci voglio credere Mo No Me l'hai fatta No vabbè ragazzi Ma di che stiamo a parlare Ma di che parliamo qua Eh vabbè pure Pure Come se non bastasse Vabbè ciao Vabbè Vabbè E' andata a fine Un po' così Diciamo Ma questa Allora guarda Facciamo una cosa Facciamo Scontro Regina Poschè Addirittura Ci sto Sì sì ti voglio dare questa possibilità Chi vince Il prossimo match Vince tutto l'episodio Stai rischiando eh però Stai rischiando Stai rischiando Sei molto sicuro di te Vabbè Però Considerando che me la vado a rischiare Vado ad utilizzare il mio personaggio Devo solo capire con chi lanciarmi io Vorrei andare con lui Erron Black Ci provo Eccomi bro E si va Fight Stavolta guarda che te lo dico Non te la do Non ce la avrai facile eh No ma io mi devo mettere però bro Qualche combo a schermo Se no qua Veramente siamo messi male Sì Questa volevo fare io E mo tocca a me E vai così No No Mannaggia No Oh finalmente Ma me lo paghi il dentista però Ti pago proprio niente Mannaggia la miseria Vai Ma No vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Aspetta solo un attimo bro che Vai Ho fatto ho fatto Che cosa Ma che è oh Ha lanciato Le botte qua Vieni vai Bam bam Oh Ma che sosti Ma cosa fa Ma che è oh È forte però Aiaiaiaia Bravo Vieni da me Vieni vieni Ma ci sono rientrato proprio nel tuo attacco E questo è il problema Ma cosa fa Scusa 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 Vabbè No vabbè ragazzi Ma questa è rubata tantissimo Ero abbassato bro eh No Calcio in faccia E mo te la fai No non ci credo ragazzi Se l'è fatta Di nuovo Mi fai fare di nuovo sta fine Non ci credo Vabbè Va bene Vabbè Ma ormai va così Cioè guarda 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 Vabbè Ragazzi Un saluto al nostro potentissimo Aaron Black Che tanto potente non è stato Sto punto Devo ammettere che Dovresti mangiare Più uova Perché Il tuo cervello Non è proprio Buonissimo eh Non è il top eh Non è proprio il top Un po' c'è quel retro gusto di amaro Come visto bro Già nel secondo match Con Baraka Ho un attimo Riniziato a capire Come utilizzare le sue mosse Ovvero Quella degli artigli da sotto E quella che ti insegue Facendo la ruota Tipo Arale No Sono mosse molto forti Che riesci Che puoi concatenare Con altre combo Sono difficili Non impossibili Ma io devo essere sincero Mi sono divertito Assolutamente ragazzi Oggi veramente abbiamo puntato Al massimo sul divertimento Anche perché Per fare combo E giocare bene Bisogna allenarsi E noi questo non l'abbiamo fatto Ma nulla toglie Che non potremmo farlo in futuro Quindi ragazzi Noi vi ringraziamo Per essere stati qua oggi Mi raccomando Pollice in su Ora Iscrivetevi al canale di tube Ovviamente sarà in descrizione Nelle schede Noi vi ringraziamo Mi raccomando Iscrivetevi E alla prossima Ciao Ciao Ciao